sto per farvi un video abbastanza duro non posso dirvi chi è il protagonista di questa storia ma vi leggerò qualcosa una storia se pensate che sia per fare views vi dico già che probabilmente il video non sarà monetizzabile già negli anni 90 c'era un brutto giro nel darknet non si sa perché si andava su quei siti ora però vi parlerò degli ultimi anni di alcune cose che sono successe ad esempio di quando apre chiuso parentesi un killer psicopatico è entrato in casa mia con un complice e mi ha sequestrato per poi ammazzarmi e torturare una persona davanti ai miei occhi nell'altro cioè prima torturarla per ammazzarla e davanti ai miei occhi facendo del male anche a me non so perché alla fine mi abbiano risparmiato davvero non so e poco ricordo mi avevano anche pesantemente drogato la cosa grave sapete qual è la cosa grave è che quella sera io sono riuscito a chiamare la polizia ma loro mi hanno risposto che non era vero che non mi credevano quando poi giorni dopo dissi loro che mi sembrava tutta una falsità mi risposero che pensavano fossero miei amici miei amici l'inventivo di questi personaggi personaggetti di tentare di farmi sparire e farmi fuori è stata davvero assurda davvero assurda pensate che più volte mi hanno chiesto e detto che sarei dovuto partire per l'iraq con i carabinieri logicamente io non ho mai accettato e logicamente volevano mandarmi là solo per farmi ammazzare senza lasciare tracce e anche un politico al telefono passato mi da uno di loro mi disse più volte che dovevo andare a servire il mio paese la mia risposta è che questo non è il mio paese e voi non siete il mio stato vi rinnego ora e per sempre non mi spiego il perché di tutto questo odio nei miei confronti ma vi assicuro che le vessazioni da parte di questi personaggi non sono mai finite che continuano sono molteplici di diverso tipo ad esempio non mi prendono le denunce mai allora io denuncio qui su youtube sentite bene quello che vi dico la polizia l'esercito i carabinieri i militari in generale sono visti come coloro che combattono il terrorismo coloro che ci difendono e sì in rarissimi casi lo fanno ma combattono il terrorismo non per noi o comunque voi pensate là un po come volete bensì per loro stessi perché loro sarebbero tra le prime vittime dei terroristi e temono per loro gliene frega nulla di noi a meno che non siate una bella figa ben disposta e questa è una piccola parentesi finisco dicendovi cosa spero spero che quella persona abbia preso fuoco sul serio spero che non sia solo un mio viaggio mentale spero che ne bruceranno ancora tanti oh deo gloria alla vendetta chiudo qui il video